Le opportunità che darà l'Expo sono molte, noi a dir la verità come gruppo B&B Hotels Italia puntiamo più che sull'Expo, l'Expo deve essere un'occasione, non tanto un punto d'arrivo ma un punto di partenza per il nostro gruppo che è presente da qualche anno in Italia e saremo sul mercato, soprattutto sulla piazza milanese con ben 4 strutture sulla città di Milano e 7 nella regione Lombardia. Perciò le opportunità e quello che ci aspettiamo dall'Expo sia nel periodo proprio dell'Expo stesso, perciò dal 1 maggio al 31 ottobre ma soprattutto per quello che avverrà dopo cioè per l'opportunità e per i meccanismi che innescherà l'Expo e che daranno, si spera, frutti soprattutto per l'avvenire per Milano e anche per l'Italia in generale. L'incremento di pronotazioni sicuramente c'è stato, c'è un grande interesse, ancora non si riescono a definire bene quelli che saranno le potenzialità ma sicuramente c'è un grande incremento, una grande attenzione e molte richieste. Sulla concretizzazione o meno si dovrà aspettare ancora forse qualche mese, però le potenzialità sono molte e stiamo facendo di tutto per coglierle proprio con queste nuove aperture che abbiamo su Milano e sulla Lombardia.